È molto probabile che se sei qui sopra fai la libera professione, fai impresa o comunque sei la persona che lavora ma che allo stesso tempo capisce l'importanza di studiare, di formarsi, di acquisire sempre nuove competenze. E non è come quando c'hai vent'anni che puoi fare lo studio a tempo pieno. Se lavori e nel frattempo devo pure ritrovare il tempo per studiare, non è facile riuscire a conoscere queste cose. E quindi alla domanda come si acquisiscono nuove competenze ho provato a invitare una persona che questa risposta se non ce la può dare alla perfezione perché si occupa proprio di questo. E ospite per la seconda volta su questo canale Alessandro De Concili al quale ho dato proprio il peso di questa domanda bomba e ho detto Ale, ma vogliamo aiutare la mia community, il mio pubblico, i miei iscritti al canale proprio a capire in che modo si può studiare bene, acquisire nuove competenze e così via? Tu chiedi e io rispondo, sono qua ed è un piacere, grazie di avervi invitato ancora una volta, è un super piacere e questa domanda in realtà è la domanda a cui io cerco di rispondere da ormai quasi 15 anni, nel senso che ho dedicato a questa domanda e a tutte le risposte che ne scaturiscono tutta la mia vita professionale e una buona parte anche della mia passione individuale. E allora quello che voglio fare oggi con la tua community, con voi che ascoltate, è darvi un'idea di qual è il percorso, il processo che noi dobbiamo svolgere per arrivare a poter dire di saper fare qualcosa, di conoscerla, di aver acquisito appunto una competenza, una conoscenza. Ed è interessante perché questi step, questi punti, in realtà sono gli stessi che io insegno ai miei studenti e alle mie studentesse quando parlo di metodo di studio. E questo è interessante perché quando, come dicevi tu, viviamo nel mondo del lavoro, della libera professione, dell'imprenditoria, ma anche del lavoro autonomo o dipendente, difficilmente ci viene in mente il termine metodo di studio, è molto associato al mondo dell'università e della scuola. In realtà le fasi del metodo di studio, altro non sono che le fasi per poter imparare qualsiasi cosa, vanno solo declinate in maniera molto diversa quando si parla di studio e di formazione continua, il cosiddetto lifelong learning. Ed è molto importante e voglio aggiungere, avere una scaletta, avere un'idea precisa di quali sono gli step da attraversare per poter imparare qualche cosa è di fondamentale importanza per poterlo fare. Più noi siamo impegnati, più noi siamo oberati di lavoro, incasinati, confusi, eccetera, e meno probabile sarà che cercando di imparare qualche cosa così, come ci viene, il risultato sia positivo. No, dobbiamo essere strutturati, la struttura è fondamentale. E allora, quali sono questi step? Questi step sono 5 o 6 a seconda di come li vogliamo descrivere, in realtà nel mio approccio al metodo di studio ne descrivo 6, ma 2, come vedrete, li accorpo insieme, quindi facciamo 5 punti. E cerco di andare più rapidamente possibile perché non voglio poi fare un pippone di 2 ore, potrei parlare per 10.000 ore di questa cosa. Allora, il primo step è lo step della pianificazione, lo step dell'organizzazione. E si suddivide in tre aspetti importanti, soprattutto quando dobbiamo imparare qualche cosa sul lavoro o nella nostra vita frenetica, e non siamo più a scuola o all'università. Il primo punto è quello della selezione delle fonti. Questo è importantissimo perché uno dei nemici più bastardi quando si parla di imparare qualche cosa da autodidatti, nella nostra vita di tutti i giorni, è la paralisi da scelta. E' quello che succede quando tu attacchi Netflix perché vuoi guardare qualcosa questa sera e c'è talmente tanta roba che non sai cosa guardare e alla fine ti riguardi per la settecentesima volta quella serie tv che hai già visto perché a un certo punto non riesci a scegliere. Ecco, in realtà questo succede moltissimo anche quando si parla di apprendimento. Pensate a se devo imparare una nuova lingua straniera o se devo imparare un certo software e comincio ad avere 20 video su YouTube, 20 tutorial, il videocorso, il libro che ho comprato e poi c'è il mio amico che mi ha detto che mi dava una mano e poi le slide, la dispensa Wikipedia, il blog, eccetera. Casino totale. All'università o a scuola questo è reso più semplice dal fatto che c'è un programma. Cioè all'esame il docente di solito ti dice, no, questi sono i materiali, questo è il manuale che devi studiare, eccetera. A scuola c'è un libro di testo, c'hai gli appunti, ecco. Quando invece impariamo nella nostra vita di tutti i giorni è importante il problema di gestire le fonti. Dobbiamo applicare una regola brutale. La regola è questa. Quando vogliamo imparare qualche cosa dobbiamo avere una e una soltanto fonte primaria. Ok, cosa vuol dire? Non vuol dire che io devo ridurre tutto lo scibile umano ad un libro, ad un video, ad un videocorso, ad una cosa e poi appiattirmi su di quello. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che però noi dobbiamo eleggere una fonte che deve essere il nostro punto di riferimento. Come lei leggiamo questa fonte? Facciamo un po' di ricerca. Ci diamo magari del tempo, ecco, perché altrimenti quella ricerca potrebbe andare avanti all'infinito. Ci diamo, non lo so, un pomeriggio per cercare la nostra fonte principale. Mettiamo sul tavolo tutte le nostre fonti e le confrontiamo. La fonte principale noi la individuiamo perché ha l'intersezione perfetta di tre elementi. la completezza, cioè è la più completa, la chiarezza, cioè è molto semplice da capire, e la puntualità, cioè il fatto che gli aspetti più importanti di quella disciplina o di quella skill che vogliamo imparare, eccetera, che ci interessa, sono trattati. E questo è rilevante nel mondo del lavoro soprattutto, perché noi quando vogliamo imparare qualcosa lo vogliamo sempre imparare per un certo fine. se io devo parlare di public speaking, mi serve perché devo fare magari una presentazione o perché devo tenere un punto in un consiglio di amministrazione. Non mi serve invece, so, imparare la didattica a scuola, ok? Quindi devo sapere che abbia i punti, sia quindi completa, sia chiara e sia anche mirata sui punti che mi interessano. Quando io ho trovato la mia fonte principale, a quel punto, quella diventerà il mio manuale di studio, la mia fonte di riferimento. Non deve essere per forza scritta, può essere anche un video, un videocorso, non è importante. Un podcast, va bene comunque. Le altre fonti, non è che io necessariamente le butto via, non è necessario, ma devono essere considerate delle fonti integrative. Anche lì facciamo una selezione, non ne scegliamo più di due o tre, ok? Le altre poi le buttiamo. E le fonti integrative vanno viste come qualche cosa da leggere, diciamo, o ascoltare in maniera un po' più rilassata, no? Non le dobbiamo studiare, ma ce le ascoltiamo. Scopro, per esempio, che c'è un libro che mi insegna quel linguaggio di programmazione che voglio imparare, quella è la mia fonte principale, e poi c'è un podcast in cui un informatico su YouTube mi spiega quel linguaggio di programmazione. Perfetto. Io studierò sul manuale e poi magari nei ritagli di tempo mi ascolto il podcast. Però lo faccio in maniera più rilassata. Ecco. Quindi questo per quanto riguarda la selezione delle fonti. Poi molto importante è il principio, stiamo sempre dentro la pianificazione, della distribuzione. Ricordatevi questo, perché è una regola assoluta quando si vuole imparare qualche cosa, specie nel mondo del lavoro. Più noi riusciamo a distribuire l'apprendimento e a renderlo costante nel tempo, è meglio funziona. Ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io devo, come dire, portarmi a casa, che ne so, appunto una lingua straniera, un nuovo software, una nuova procedura al lavoro, devo sviluppare una nuova competenza, funzionerà molto meglio studiarla un po' tutti i giorni, cioè dedicare mezz'ora al giorno, piuttosto che fare una volta alla settimana le tre ore di full immersion. Questo principio, che si chiama principio di spacing, è un principio vecchissimo, è stato scoperto alla fine del 1800 da Herman Ebbinghaus, che è un po' il padre di tutti noi esperti di metodo di studio, perché è stato il primo che ha studiato la memoria e il suo funzionamento. E quindi semplicemente bisogna abituarsi a distribuire nel tempo. Quindi distribuzione e regolarità. Se devo imparare una lingua straniera, è meglio fare mezz'ora al giorno di inglese che non quattro ore di inglese a sabato pomeriggio. Ok? E lo stesso vale per i software, vale per la musica, vale per il public speaking, vale per qualunque cosa. Ok? Quindi questo per quanto riguarda la pianificazione. Questo era il primo punto, soltanto il primo. Ho parlato troppo, Raff? No, 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 assolutamente. Anzi, mi è piaciuto partire a bomba così, perché sulla fonte è una cosa che già facevo, quindi sono contento, ho avuto una bella conferma, anche sul fatto che può essere qualsiasi cosa la fonte primaria, senza demonizzare magari i video YouTube, i corsi online. Non deve essere per forza dei paper scientifici, ecco, mettiamola così. Mentre non sapevo la cosa dello distribuire nel tempo. Io sono molto tipo da full immersion, proverò anche questo approccio così, che è una cosa che non avevo mai fatto, effettivamente. Mi intriga un sacco. Ok, quindi dopo che abbiamo fatto questo, qual è il secondo step? Noi abbiamo il nostro piano, cioè abbiamo distribuito nel tempo, abbiamo trovato i nostri slot giornalieri per fare le cose, le abbiamo inserite nel time blocking di cui abbiamo parlato nel video precedente che abbiamo fatto insieme. A questo punto arriva la prima fase vera e propria di studio, che è la fase di acquisizione, che viene fatta insieme alla fase di comprensione. Ecco, qui sono due punti, ma in realtà li unisco in un unico solo punto. È il momento in cui per la prima volta noi ci approcciamo alle informazioni, alle cose che dobbiamo imparare. È il momento del contatto, dell'impatto. E qui ci sono due o tre principi di cui vi voglio parlare e che dovete sempre tenere a mente. Il primo principio, il più importante di tutti, è quello della partecipazione attiva. Cosa vuol dire partecipazione attiva? Non c'è niente di peggio, soprattutto quando siamo più avanti con l'età magari, che abbiamo più cose da fare, una vita più complessa, di cercare di imparare le cose in maniera passiva, ascoltando, leggendo e sperando che a un certo punto le informazioni saltino fuori dalla fonte principale e ci finiscano dentro la capoccia. Questa cosa semplicemente non succede, ok? Quindi la partecipazione attiva che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non stiamo leggendo o ascoltando e stando lì a vedere se alcune informazioni ci torneranno utili. Ma dobbiamo porci in un mindset di ricerca. Il testo, il libro, il videocorso, il video su YouTube, il podcast sono una, come dire, una foresta dove noi dobbiamo entrare e dove dobbiamo individuare le cose che ci interessa, prenderle e portarcele via. La metafora che uso sempre per far capire, è una metafora un po' boomer se volete, però se voi vi andate a fare una passeggiata nel bosco, ok? Con magari le cuffie nelle orecchie, vi ascoltate la vostra musica preferita e vi godete il paesaggio, voi camminate, no? Spensierate, spensierate per il bosco, che bello, che bella cosa. Ma siete distratti, distratte. Se invece voi nel bosco ci entrate per cercare funghi, ok, o si potrebbe usare la metafora della caccia, però a me personalmente non è che piaccia molto l'idea di andare a sparare gli animali, quindi dico cercare funghi, il vostro modo di camminare e di gestire l'ingresso nella foresta è completamente diverso. Prima eravate spensierati, adesso siete attenti. Dice, ah, potrebbe essere un fungo? Sì, però, no, è quello velenoso, non lo voglio. Ok, ah, eccolo lì, lo prendo, lo porto a casa. È un atteggiamento completamente diverso. Stiamo facendo la stessa cosa, stiamo camminando nel bosco, ma lo stiamo facendo con due approcci completamente diversi. Ecco, lo stesso deve avvenire quando noi impariamo, studiamo, leggiamo, ascoltiamo. Non sto leggendo un libro. Quello è quello che faccio quando leggo un bel romanzo, ma lo voglio godere, mi voglio godere il romanzo. Ma se io invece sto leggendo un manuale, o sto leggendo un libro di informazioni, o sto ascoltando un podcast tecnico, o un videocorso, eccetera, o una lezione, io sono lì che scremo le informazioni, sento tante cose, tac, e prendo quello che mi serve e me lo porto a casa. Me lo scrivo, me lo metto giù, magari prendo degli appunti, eccetera. Quindi è molto importante. Ed è molto importante per poter aiutare questo principio qui, quello della ricerca e della partecipazione attiva, il porsi delle domande prima, sia che io stia per leggere, sia che io stia per ascoltare, devo sempre farlo con un obiettivo specifico in mente, ok? Devo fare mente locale su qual è l'obiettivo di quell'ascolto o di quella lettura. Cosa è che voglio portarmi a casa? Quali sono i miei obiettivi? Cosa ci voglio fare con queste informazioni? Mi scrivo giù, posso prendere un post-it o una nota sul cellulare, quattro o cinque domande a cui voglio trovare risposta, quando ascolto, quando leggo, eccetera. E poi entro in modalità ricerca delle risposte. Questo aiuta tantissimo veramente il processo di acquisizione e di comprensione, perché mi aiuta a, come dire, rendere significative le cose che ascolto, ok? E infine l'ultima cosa su questo punto qui, molto importante l'aspetto di, se vogliamo, interruzione. L'apprendimento non deve essere fluido come la lettura di un romanzo o di una poesia, ma deve costantemente interrompersi per poter fare un check, per poter controllare, ho capito davvero? Lo saprei mettere in pratica? Ho veramente ascoltato quello che stavo dicendo? Se invece noi ci lasciamo andare e leggiamo, scorriamo ste pagine, o ascoltiamo sto podcast, magari a due perdi velocità, come tanti fanno e tante fanno, vi vedo che lo fate, non dovreste, vabbè, soprattutto quando state cercando di imparare qualcosa, il rischio è di perdersi. Quante volte capita di arrivare alla fine del capitolo e poi dire, ma che cazzo ho letto? Questa cosa qui non deve succedere, bisogna interrompersi, bisogna fermarsi ogni frase, ad ogni punto, ad ogni paragrafo, al massimo, dopo qualche minuto ti fermi e fai mente locale. Dici, ok, cos'è che ho appena ascoltato? Rispondeva alle domande che mi ero posto? Mi ha dato delle informazioni utili? Ecco, questo è un principio fondamentale che aumenta tantissimo la comprensione, perché ci impedisce anche quella distrazione del dire, comincio a pensare ai cazzi miei e non me ne accorgo e continuo ad andare avanti. Se invece io mi abituo a bloccarmi, se anche mi sono distratto, posso tornare indietro e ho perso solo un pezzettino. Questi sono i punti fondamentali per quando dobbiamo ascoltare, acquisire e comprendere qualcosa. E qua so contento che hai detto questa cosa perché io su Instagram ogni tanto metto le foto che mentre sto leggendo dei libri, saggi, manuali, eccetera, eccetera, sottolineo, scrivo le note sui lati, ti prendi gli appunti e la gente è scandalizzata e mi dice ma li torturi i libri, la penna non dovrebbe mai toccare le pagine. Ora ho il supporto della scienza, quindi posso farlo. No, è chiaro che magari sottolineare in maniera pigra, come fanno certi studenti che solo sottolineano le frasi così, non ha nessun senso. Ma se tu ti prendi delle note, individui la parola chiave, stai attento, allora quella roba lì aiuta tantissimo assolutamente, altro che i libri sono fatti per essere usati, sporcati. Se li volete tenere come dei santuari, ricompratevi i libri da collezione e guardatevi lì, non ci niente di male, però non sono i libri da sfruttare. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Bene, bene, bene. Quindi dopo che abbiamo fatto questa immersione ai nostri contenuti, qual è il terzo step? C'è la rielaborazione. La rielaborazione è qui e questa è la cosa meno capita in assoluto. Noi non impariamo per ripetere a pappagallo quello che ha detto l'insegnante, quello che c'è scritto sul libro, quello che ha detto il capo al lavoro. Quella roba lì non serve a niente. Abbiamo degli strumenti tecnologici sempre più avanzati per risputare fuori le informazioni così come le abbiamo sentite. Il valore aggiunto, il valore umano aggiunto, è proprio la rielaborazione. Rielaborazione che cosa significa? Significa prendere le informazioni che ho sentito, ho assorbito e ho compreso e codificarle, si dice proprio il termine tecnico è encoding, a livello proprio cognitivo, codificarle all'interno della nostra rete di informazioni, di memoria pregressa. Quindi aggiungere il nostro punto di vista, cercare di, come dire, legare quello che abbiamo sentito a cosa sapevamo prima e a cosa vorremmo sapere dopo. Quindi creare le intere connessioni. Come si fa questo? Una tecnica efficacissima è la cosiddetta tecnica di Feynman. Funziona molto bene soprattutto sul lavoro se magari non ho la possibilità di fare degli schemi, gli schemi sono molto utili, però se non ne ho la possibilità io posso prendere un'altra persona o posso immaginarmi di essere un'insegnante e di provare a spiegare a qualcun altro quello che ho imparato. Questo funziona molto bene perché se devo insegnare qualcosa a qualcuno sono costretto a fare ordine nella mia mente, a trovare magari metafore, esempi, collegamenti, collegamenti con la vita di tutti i giorni o con il contesto in cui dovrò applicare quella cosa, per esempio il contesto lavorativo. Quindi funziona molto bene e questo si può implementare a livello lavorativo anche con una tecnica di scambio di competenze che funziona molto bene. Cioè io imparo, dobbiamo imparare cinque procedure, va bene? Allora che cosa facciamo? Invece di impararle tutti, ognuno per conto suo, queste cinque procedure, io prendo il mio collega, la mia collega e diciamo ok, la prima me la imparo io e poi te la spiego. La seconda la impari tu e poi me la spieghi. E facendo questo gioco ci si abitua non soltanto a studiare davvero bene una cosa ma poi a comunicarla a qualcun altro. Si risparmia tempo da un certo punto di vista ma soprattutto si diventa veramente specialisti perché quando tu devi insegnare a qualcosa a qualcuno sei investito di questa responsabilità, sei costretto, sei costretta davvero a fare ordine. E quindi quella rielaborazione, quel tocco personale e quella capacità di sintetizzare e ristrutturare le informazioni è la vera differenza tra chi impara così in maniera superficiale e chi poi le cose le sale, sviluppa davvero nel contesto lavorativo. Tra l'altro poi questa cosa si vede benissimo. Cioè le persone che hanno soltanto imparato a memoria il compitino non vanno molto avanti. Chi invece ha rielaborato, è andato a fondo e lo sa anche magari comunicare a qualcun altro lì è fantastico. E poi se potete fare degli schemi anche quelli sono i benvenuti. Questo era il nostro terzo step. Mi piace questa cosa perché tra l'altro su questo ci può aiutare anche l'intelligenza artificiale me l'avete sentito dire qua sopra in qualche altro video. Possiamo sfruttare il CIGPT per fargli fare un po' se volete un po' un approccio o no maieutico all'apprendimento allo studio. Quindi ci possiamo allenare insieme al CIGPT nel caso in cui non avete questa persona con la quale allenarvi. Quindi questo è molto bello. ci ho infilato io un po' di ai a gamba tesa, perdonami. Le ai ci sta sempre bene. Però benissimo. Siamo al quarto se non sbaglio. Cosa viene quindi dopo questo? Quarto e penultimo e questo è forse il più importante di tutti in assoluto. E qui bisogna che occhi a me, è importante. Perché cos'è che ci insegnano fin da quando andiamo a scuola ma poi anche all'università? Ci insegnano che per imparare qualche cosa che sia un passo di danza che sia la lezione all'università o che sia la procedura al lavoro quello che bisogna fare è ripeterla. Rileggere, ripetere, riascoltare, ri, 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 ri. Ok? Quindi rifare più volte le stesse cose che abbiamo fatto prima. Se era un testo scritto rileggerlo più volte, se era una lezione riascoltarla più volte oppure ripeterla ancora e ancora e ancora. Ecco, la buona notizia è che leggere, ripetere, riascoltare, rileggere non è inefficace. Cioè, alla lunga funziona. Se io riascolto lo stesso video di Raffaele 80 volte alla fine lo so a memoria, ci sta. Ma la brutta notizia è che questo modo, questo metodo di apprendimento è un metodo estremamente inefficiente. È lento, è pesante, è fastidioso, è noioso, è irresponsabile del fatto che le persone non vedono l'ora di smettere di imparare. Perché poi c'è anche questo da dire. Uno degli effetti più comuni dell'università è che quando è finita l'università la gente dice ah, finalmente basta. E invece poi scopre che nel mondo del lavoro bisogna studiare ancora di più e lì li crolla il palco. Quindi qual è l'alternativa? L'alternativa è quello che viene chiamato nel mondo della psicologia cognitiva Active Recall o Retrieval Practice. In italiano lo potremmo chiamare Recupero Attivo e prende un altro nome che forse è più facile da ricordare che è Testing. Cos'è il Testing? L'idea è questa. Quando io ho imparato qualcosa, l'ho compreso, l'ho acquisito, l'ho rielaborato, lo so spiegare agli altri, eccetera, eccetera, io lo devo fissare nella memoria perché poi me lo devo ricordare me lo devo ricordare a lungo termine pensate magari a un nuovo software che sto imparando a una lingua straniera che sto parlando io queste cose poi le devo usare. E allora come funziona il Recupero Attivo? Invece di rileggere riascoltare riscrivere rifare mi sforzo di recuperare dalla mia memoria quella informazione riportarla alla memoria di lavoro quindi alla mia coscienza diciamo di quel momento e riutilizzarla. È molto semplice. Facciamo finta che io devo ricordarmi come si fa come si dice una certa parola in una certa lingua. Allora io posso rileggere il libro e ridire ah sì, si diceva così oppure posso prendere una domanda cioè creare magari quelle che vengono chiamate nello studio le flashcards cioè sono dei bigliettini con una domanda da una parte e sul retro la risposta oppure può essere un esercizio o qualche cosa del genere che mi sollecita lo stimolo mi dice com'è che si diceva quella parola? Allora io ci penso vado a recuperare l'informazione si diceva così ecco quest'atto qui l'atto del cercare nella nostra memoria la risposta tirarla fuori e riutilizzarla consolida quello che noi abbiamo imparato molto molto più velocemente e in maniera molto più semplice e anche più divertente di quanto non faccia la rilettura o rifare. Ecco che quindi nelle skill pratiche penso alle skill lavorative informatiche eccetera il testing prende la forma delle domande risposte quando si tratta di informazioni teoriche ma anche dell'esercizio pratico cioè noi dobbiamo ricordarci che teoria e pratica sono separate soltanto nella nostra mente nella realtà anzi nella nostra mente nel nostro modo di interpretare il mondo perché in realtà a livello proprio di apprendimento teoria e pratica dovrebbero essere non dico la stessa cosa ma quantomeno alternate costantemente e quindi inframezzare costantemente in quello che noi stiamo facendo un test pratico mettere alla prova cercare dei feedback rispondere a delle domande se so rispondere vado avanti se non so rispondere torno al mio schema o alla mia fonte primaria di partenza che dicevamo e provo a rifare il ragionamento inserire un costante come dire un costante momento di feedback in cui sono costretto o costretta a fare lo sforzo di recupero dell'informazione quello è cruciale se io mi limito a rileggere riscrivere rifare ci metterò molto più tempo se invece io mi sforzo è come se stessi dando al cervello il segnale del fatto che quella cosa lì mi serve perché trovo quello stimolo e sono costretto a tirarlo fuori funziona molto bene poterlo fare anche in coppia ancora una volta quindi interrogarsi a vicenda svolgere insieme degli esercizi dei test delle prove fare delle simulazioni del contesto in cui realmente poi dovremmo usare quella competenza quella skill ecco questo è importantissimo se non facciamo il testing imparare diventa incredibilmente più difficile più lungo e poi soprattutto si rischia l'effetto tutto fumo e niente arrosto cioè che poi ho imparato tante cose poi non le so fare è lì che nel testing che si passa anche dalla conoscenza fine a se stessa dal nozionismo alla competenza pratica e questo nel campo soprattutto lavorativo è cruciale e questo mi ricorda molto di quando all'università proprio con con gli amici con i compagni di studio si girava a turno no? e quindi facevi o le simulazioni dell'esame dalle prove vecchie oppure ti interrogavi a vicenda quindi Raffaele fa le domande a Pippo Pippo fa le domande a Francesca Francesca le fa Raffaele e anche qui faccio la la piccola aggiunta di AI perché per esempio questa è una cosa che possiamo fare per esempio usando già GPTO strumenti sim ci facciamo proporre delle domande quindi se non avete idea di come fare queste domande ve le fate scrivere e voi provate a rispondere magari con un pezzo di carta e così al 100% e poi lo sforzo è quello di rispondere non di creare la domanda quindi se la fa l'intelligenza artificiale quella parte non intacca il nostro processo di memorizzazione quindi fantastico bello 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 siamo al quinto e ultimo qua se mi dispiace è l'ultimo è l'ultimo come si conclude questo ciclo di apprendimento si conclude perché a un certo punto uno con il testing finisce e puoi dire una volta che tu sai fare il testing quindi sai svolgere gli esercizi sai rispondere alle domande tu puoi dire tecnicamente di sapere quelle cose o di saperle fare nel caso di una skill pratica e quindi è finita lì ti piacerebbe perché poi arriva l'ultimo punto e l'ultimo punto è il ricordo è il ripasso è il mantenere le cose nel tempo studiare e imparare è solo metà dello sforzo l'altra metà è mantenere nel tempo questo perché perché il nostro cervello è una macchina economica non non mantiene delle conoscenze o delle competenze a caso noi dobbiamo continuare a segnalare al cervello che quelle cose ci interessano e ci servono altrimenti prima o poi se le dimenticherai un po' è lo stesso principio che succede quando tu ti rompi una gamba o un braccio ti metti il gesso e quando te lo togli il braccio è piccolino così la gamba si è rinsecchita perché se tu non usi i muscoli il corpo fa economia e dice perché devo sprecare energie per mantenere quel muscolo lo faccio sparire visto che non serve più e via ecco funziona lo stesso modo nella memoria quindi come si fa velocissimo si costantemente crea un momento di ripasso di feedback molto rapido e quel momento di ripasso di feedback può essere anche identico a quello che abbiamo appena visto per il testing quindi possono essere gli stessi tipi di domande può essere cia cpt che ci interroga può essere di nuovo un altro esercizio un'altra simulazione un'altra applicazione ma lo si fa a degli intervalli di tempo precisi ora c'è una scienza pazzesca su quelle che vengono chiamate spaced repetitions cioè appunto gli intervalli precisi di tempo che dovrebbero passare tra un ripasso e quello dopo per mantenere le cose a memoria per sempre ma posso darvi una regola proprio pratica ok la regola funziona così dopo qualche ora che avete finito di imparare qualche cosa riguardatela e riguardatela si intende rifate il testing non rileggete da capo ma risforzatevi quindi se io sono alla mattina sto imparando qualche cosa al pomeriggio rientro dalla pausa pranzo mi prendo quei 10 minuti 15 minuti per fare un po' di testing per fare un po' di esercizio se lo sto imparando al pomeriggio lo faccio la sera quindi il primo ripasso dovrebbe avvenire dopo poco dopo qualche ora al massimo da quando ho imparato quell'argomento e questo è molto controintuitivo perché le persone tendono a ripassare quando percepiscono di essersi dimenticate le cose invece quello che io vi chiedo è di cambiare l'approccio invece di ripassare ciò che ti sei dimenticato ripassa per non dimenticare è una cosa completamente diversa e quindi io continuo a ripassare in modo da non arrivare mai al punto di scordarmi le cose funziona molto meglio e molto rapido il secondo ripasso voi lo fate il giorno dopo cioè prima di iniziare a studiare o di imparare qualcosa di nuovo quindi ho imparato questo capitolo domani tocca quell'altro ho imparato questa procedura domani tocca quell'altra prima di imparare qualcosa di nuovo riprendete sempre in mano sempre con il testing quello che avete fatto la volta precedente molto semplice e poi magari una volta alla settimana vi fate un ripasso generale di tutto quello che avete fatto e una volta al mese vi fate un ripasso generale di tutto quello che avete fatto nel mese questo è un'applicazione molto semplice delle space repetition possono diventare molto più complesse molto più strutturate di così ma trattandosi di studio apprendimento nel mondo lavorativo nel mondo di tutti i giorni noi abbiamo una fortuna che a differenza dello studente della studentessa che ha l'esame fra due mesi e che quindi deve mantenere le cose e nella sua vita di tutti i giorni quelle informazioni non le usa se noi stiamo imparando una skill lavorativa il ripasso qualche volta al di là di questi pochi punti fermi che vi ho appena detto arriva in modo spontaneo perché quando il capo ti chiede di fare una cosa quando tu sei il capo chiede a qualcun altro di fare qualcosa o ti incontri con quella procedura o devi usare quella lingua o quel software automaticamente lo stai ripassando ok e quindi io tengo come punti fermi quei momenti quindi dopo qualche ora il giorno dopo prima di fare qualcosa di nuovo alla fine della settimana alla fine del mese tengo questi punti di riferimento chiari e poi se quella skill o quella competenza quella conoscenza che stiamo acquisendo ci servirà nella nostra vita di tutti i giorni ogni volta che la applichiamo la stiamo ripassando e diventiamo più rapidi e manteniamo nel tempo le informazioni questo è veramente importante scordatevi l'idea di finisco il libro quella che c'era una volta all'università o a scuola finisco il libro e poi lo ripeto lo ripasso no il ripasso deve essere una cosa costante più noi acquisiamo feedback e rifacciamo il testing e più rapidi diventiamo e quindi invece di metterci due ore a ripassare ci mettiamo due minuti diventiamo molto più più rapidi e più riusciamo a proprio a segnalare al nostro cervello che quella informazione è utile e quindi non dovrà mai essere riacquisita ricompresa rielaborata ma viene mantenuto il lavoro e facciamo molto meno sforzo ci mettiamo molto meno tempo e soprattutto alla fine impariamo di più bello mi piace un sacco la frase che hai utilizzato quando hai detto passate dall'approccio di ripetere quando dimenticate a ripetere per non dimenticare perché secondo me riassume perfettamente questo quinto e ultimo step veramente molto 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 bello grazie mille delle dritte che ci hai dato raga ovviamente se vi interessano questi argomenti e volete saperne di più fatevi un getto sul canale di Alessandro vi lascio il link qui sotto in descrizione ve lo metto pure a schermo perché trovate una valanga di video su questa roba e quindi diciamo potete veramente passarci le ore le ore e le ore a studiare come studiare bene Ale grazie mille di essere stato dei nostri grazie mille